Ciao, io sono Michael, Michael Forni, studi social, sono un Agile Coach, Agile Facilitator. Il mio obiettivo è quello di aiutare individui, imprese, organizzazione in generale, ad abbracciare Agile per trarne il massimo. Agile è un approccio e quindi è un modo diverso di fare le cose che può utilizzare quelli che noi chiamiamo framework. Durante il nostro workshop abbiamo mostrato tre framework diversi, uno si chiama Lean Canvas, uno si chiama Scrum e l'altro si chiama Legal Sales Play. Non significa che bisogna essere per forza delle grandi aziende con dei grandi numeri o magari occuparsi solo per poter sfruttare i vantaggi Agile, che è un cappello che ricopre tanti approcci diversi. Quindi anche delle imprese piccole o dei piccoli team di lavoro, magari anche due professionisti di lavoro nello studio, possono abbracciare i principi generali di Agile che si discosta dal modo precedente di lavorare semplicemente da un elemento di constatazione, che le cose cambiano. Se abbiamo un mondo in continua evoluzione e non abbiamo la possibilità di applicare una ricetta preconfezionata, non dobbiamo rispondere al cambiamento. Siamo esseri umani e possiamo tutto, siamo pieni di potere.